oggi parliamo di giada borgato la prima donna al commento del giro d'italia l'ex ciclista è stata scelta dalla rai per fare il commento tecnico della corsa rosa giada borgato è la nuova voce del giro d'italia l'ex ciclista infatti è stata scelta quest'anno dalla rai per fare il commento tecnico della corsa rosa ed è la prima donna a rivestire questo ruolo borgato subentra gianni bugno in un ambiente ancora fortemente maschilista dovranno abituarsi ha detto prima di cominciare lo sport del ciclismo è quello far girare le gambe e spingere sui pedali mi accetteranno e magari farò loro cambiare idea già da borgato a 31 anni è padovana ed è la figlia dell'ex ciclista dilettante aldo borgato nel 2002 si è laureata campionessa italiana esordienti nel 2005 è arrivata seconda al campionato italiano allieve e nel biennio 2006 2007 ha gareggiato con le juniores il debut tra l'elite arrivato nel 2008 nel 2009 si è classificata terza al gran premio gfm meccanica e nona al gran premio della liberazione nel 2012 infine è diventata campionessa italiana si è ritirata al termine della stagione del 2014 sul giro di quest'anno ha dimostrato di avere le idee chiare un bel giro meno tappe a cronometro con in più tratti di sterrato il ritorno a una tappa storica sullo zoncolan e delle tappe con arrivo in salita davvero dure come cortina e alpe di motta già i pochi chilometri a cronometro saranno una differenza importante ha concluso la borgato per oggi è tutto io vi ringrazio ci vediamo domani con una nuova puntata di business sport 24 leggete l'articolo completo sulla sezione sport del nostro sito www.business24tv.it un saluto ciao